il treno regionale 23 9 6 0 di ferrovia adriatico san gritana delle ore 4 e 35 per pescara centrale è in partenza dal binario 5 ferma in tutte le stazioni eccetto montenero petacciato porto di vasto il treno regionale di trenitalia delle ore 5 e 48 per campo basso è in partenza dal binario 6 ferma in tutte le stazioni il treno regionale 12 0 7 6 di trenitalia delle ore 6 per pescara centrale è in partenza dal binario 4 ferma in tutte le stazioni il treno regionale 12 0 7 5 di trenitalia delle ore 6 e 20 proveniente da pescara centrale è in arrivo al binario 4 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 26 3 8 7 di trenitalia delle ore 6 e 30 per foggia è in partenza dal binario 5 ferma a campomerino chieuti serra capriola poggio imperiale san severo il treno freccia bianca 88 10 di trenitalia proveniente da bari centrale è diretto a milano centrale delle ore 7 e 25 è in arrivo al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma pescara centrale san benedetto del tronto ancona pesaro rimini bologna centrale modena reggio emilia parma piacenza carrozze dalla 1 alla trenco dal treno dalla 4 alla 6 centro treno dalla 7 alla 9 testa treno il treno regionale 31 92 di trenitalia delle ore 7 e 33 per teramo è in partenza dal binario 1 ferma in tutte le stazioni il treno intercity 606 di trenitalia proveniente da bari centrale è diretto a bologna centrale delle ore 8 e 06 è in arrivo al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a vasto san salvo pescara centrale giulianova san benedetto del tronto porto san giorgio fermo civita nova marche ancona senigallia fano pesaro cattolica san giovanni gaddice riccione primini cesena forli faenza la prima classe è in testa al treno il treno regionale 12031 di trenitalia delle ore 9 20 proveniente da teramo è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a pescara centrale ancona riccione primini bologna centrale i livelli executive e business sono in coda al treno su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione il treno freccia bianca 88 14 di trenitalia proveniente da lecce è diretto a milano centrale delle ore 9 25 è in arrivo al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a pescara centrale civita nova marche ancona pesaro primini bologna centrale modena reggio emilia parma piacenza carrozze dalla 1 alla 3 in testa al treno dalla 4 alla 6 centro treno dalla 7 alla 9 coda treno il treno intercity 608 di trenitalia proveniente da lecce è diretto a bologna centrale delle ore 10 e 10 è in arrivo al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma vasto san salvo pescara centrale giulianova san benedetto del tronto porto san giorgio fermo civita nova marche ancona senegallia fano pesaro cattolica san giovanni gaddice riccione primini cesena forli faenza la prima classe è in testa al treno il treno freccia bianca 88 16 di trenitalia proveniente da lecce è diretto a venezia santa lucia delle ore 10 e 25 è in arrivo al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a pescara centrale ancona pesaro primini bologna centrale ferrara rovigo padova venezia mestre carrozze dalla 1 alla 3 in testa al treno dalla 4 alla 6 centro treno dalla 7 dalla 7 alla 9 coda treno il treno freccia bianca 88 01 di trenitalia proveniente da venezia santa lucia è diretto a lecce delle ore 12 e 35 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a foggia barletta bari centrale brindisi carrozze dalla 1 alla 3 in coda al treno dalla 4 alla 6 centro treno dalla 7 alla 9 testa treno il treno freccia bianca 88 20 di trenitalia proveniente da taranto è diretto a milano centrale delle ore 13 25 è in arrivo al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a pescara centrale ancona pesaro primini bologna centrale modena reggio emilia parma piacenza parma piacenza carrozze dalla 1 alla 3 in testa al treno dalla 4 alla 6 centro treno dalla 7 alla 9 coda treno il treno freccia bianca 88 03 di trenitalia proveniente da milano centrale e diretto a bari centrale delle ore 13 38 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a foggia barletta carrozze dalla 1 alla 3 in testa al treno dalla 4 alla 6 centro treno dalla 7 alla 9 coda treno il treno intercity 605 di trenitalia proveniente da milano centrale e diretto a taranto delle ore 14 52 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a pescara centrale a sansevero a sansevero foggia barletta trani bisceglie molfetta bari centrale gioia del colle la prima classe è in coda al treno il treno alta velocità freccia rossa 98 08 di trenitalia proveniente da lecce e diretto a torino porta nuova delle ore 15 25 è in arrivo al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a pescara centrale ancona pesaro rimini bologna centrale reggio emilia v medio padana milano rogoredo milano porta garibaldi torino porta susa i livelli executive e business sono in testa al treno su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione il treno alta velocità freccia rossa 98 05 di trenitalia proveniente da torino porta nuova e diretto a lecce delle ore 15 35 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a foggia barletta bari centrale brindisi i livelli executive e business sono in coda al treno su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione è disponibile il servizio di ristorazione il treno regionale 26 3 9 2 di trenitalia delle ore 15 e 50 proveniente da foggia è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 23 9 0 1 di ferrovia adriatico sangritana delle ore 22 20 proveniente da pescara centrale è in arrivo al 5 5 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno alta velocità freccia rossa 98 09 di trenitalia proveniente da milano centrale è diretto a bari centrale delle ore 20 e 48 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a foggia i livelli executive e business sono in coda al treno su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione il treno regionale 22 3 2 6 di trenitalia delle ore 22 03 proveniente da foggia è in arrivo al binario 5 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 12 11 7 di trenitalia delle ore 21 e 25 proveniente da pescara centrale è in arrivo al binario 5 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 12 11 7 di trenitalia delle ore 21 e 25 proveniente da pescara centrale è in arrivo al binario 5 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno frecciabianca 35 487 di trenitalia proveniente da milano centrale è diretto a bari centrale delle ore 23 e 26 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a foggia barletta carrozze dalla 1 alla 3 in testa al treno dalla 4 alla 6 centro treno dalla 7 alla 9 coda treno